C'è una gara molto impegnativa, però siamo pronti, i giocatori stanno tutti bene, i soliti noti purtroppo sono ancora in fase di recupero, Gep finalmente sconterà l'ultima giornata, però la cosa sta bene, c'è l'entusiasmo, prepariamoci per una gara molto complica. Cisena ha fatto una partita, è stata una partita difficile a Bari, ma Cisena si è rinforzato molto dal mercato perché prendere Scona, Milio e Caccia sono colpi importanti per la Serie B, è una squadra che ha un pubblico che meriterebbe altri palcoscenici, sicuramente la Serie A, sia allo stadio, gli abbonati, insomma quasi 10.000, per cui è una partita molto complicata, la prima in casa loro, ci vorrà un grande Venezia, ma questo sarà su tutti i campi quest'anno, insomma è veramente incredibile la Serie B che ci è capitata, per cui è anche stimolante, bello, però sappiamo che le difficoltà ci saranno ogni sabato, però noi siamo pronti ad affrontarla nel modo giusto, conoscendo le nostre forze.